Siamo quasi per la partenza, giusto il tempo di limare gli ultimi dettagli, cosa che avviene in questo momento si sono aperte le gabbie, parti cavalli della terza vediamo subito le prime mosse, la prima notizia che parte un filino lentamente ad amanti ad avanti ci vanno in tre che fanno una frazione un po' desueta rispetto a quelle che sono le aspettative in particolare Evaporation che passa in vantaggio dopo un primo parziale abbastanza lento Sweet Devotion che lascia strada e in terza posizione c'è anche quota fissa Fuoco dei Griff e l'altro che ha colto una discreta partenza alle spalle di questi la seconda linea è completata da Forio ancora quota fissa per corsie esterne, tra i cavalli c'è Cavern Case poi per vie esterne anche la grigia, Rosso Capricorn che precede maniera platonica ed in fondo al gruppo c'è Adamantia, cavalli che hanno percorso già tre quarti della piegata nessuna variazione particolare, tre cavalli virtualmente su di una linea dall'esterno verso l'interno Fuoco dei Griff, Evaporation e Sweet Devotion Forio che si fa strada per corsie interne ma tutti come una lunga ondata si spostano allo steccato esterno, c'è sempre Fuoco dei Griff davanti all'interno ci prova Sweet Devotion, quota fissa che cerca di filtrare Forio che rimane in quota, Rosso Capricorn che ancora deve dare l'affondo decisivo gli altri che sono abbastanza lontani, siamo a 300 al traguardo prova a ingranare la marcia successiva, Fuoco dei Griff che è leggero vantaggio all'interno però sta tornando di gran carriera, Evaporation anche quota fissa della partita, Evaporation e quota fissa Evaporation di dentro e quota fissa di fuori, Evaporation che conclude in scioltezza battendo quota fissa e poi per il terzo vicini Forio e Sweet Devotion il peso più alto, Evaporation, alla prima per il nuovo team ottiene la seconda affermazione in carriera la figlia di Sidemun colpisce a grossa quota 16 con Fabio Branca in sella per il training di Pier Antonio Convertini colori di Leonardo Ciampoli sembrava un po' in difficoltà invece poi si è ripresa la scena Evaporation, è battuto, quota fissa bene, in questa circostanza un buon secondo posto per numero 5 dello schieramento quindi 1-5, vediamo per il terzo dove pende il maggior dubbio è Forio, numero 3 1-5-3, l'ordine di aderivo, un fucile numerico è probabile, della terza la capannelle è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti